Ben tornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì. Come sempre iniziamo dando un'occhiata all'Europa. Ancora alta pressione sui settori centro-occidentali del continente, invece qualche precipitazione prevista alle alte latitudini sull'estremo est europeo. Come temperature, valori intorno ai 20 gradi o anche oltre alle latitudini mediterranee sulla parte ovest dell'Europa. Ma ora passiamo all'Italia. Sta nel complesso una giornata buona ma torna in realtà qualche nuvola e anche qualche piovasco ma esclusivamente a ridosso delle zone montuose. Vediamo le temperature minime stazionarie. In tutto il paese siamo bene o male al di sopra dei 10 gradi. Temperature massime, leggero calo per effetto di queste nuvole in arrivo. Però in realtà gradevoli sopra i 20 gradi. Ora entriamo nel dettaglio. Al nord torna qualche nuvoletta ma come vedete locali precipitazioni sono previste solo su Alpi e Prealpi centro-orientali e sull'Appennino emiliano. Nell'Italia centrale si parte bene ma col passare delle ore nubi in aumento in Toscana e lungo la dorsale Appennini che in queste zone rischiamo anche qualche rovescio di pioggia. Al sud a tempo nel complesso buono però in Sicilia, soprattutto nell'interno, non escludiamo qualche acquazzone in particolare nel pomeriggio. Con questo è tutto ma rimanete con noi come sempre su trebimeteo.com Grazie a tutti. Grazie a tutti.